Nessuno meglio di noi sa cosa significa avere tra le mani il prodotto giusto. Quello che ti cambia il business è diventa il segreto del tuo successo. Perciò, quando abbiamo notato che sul fronte digitale eravamo rimasti indietro, abbiamo capito che anche in questo caso dovevamo avere il prodotto, anzi il partner giusto. Per questo abbiamo scelto Team System. MT è nata nel 1972, quando mio padre ha iniziato come contoterzista, attività che ha permesso all'azienda di maturare nel tempo esperienza e know-how nelle lavorazioni meccaniche. Nel 1996 un grande cambiamento, la via della produzione di portotensili statici e motorizzati per torni a controllo numerico. Il successo è stato tale da farla diventare la nostra attività principale e oggi esportiamo il nostro prodotto su scala globale. Abbiamo 130 collaboratori, siamo il quarto produttore al mondo con una crescita oltre il 20% all'anno e siamo la prima azienda al mondo ad aver inserito un robot umanoide che lavora a stretto contatto con i dipendenti. Insomma, siamo sempre pronti a sperimentare. La nostra azienda è sempre stata attenta al cambiamento e alla digitalizzazione. Basti pensare che abbiamo iniziato a gestire la produzione con i primi codici a barre nel 1998. Il gestionale di allora però non era sufficientemente funzionale e non correva alla nostra velocità. Per di più, seguiva soltanto l'area produttiva, mentre un altro software si occupava di quella amministrativa e del magazzino. Avere due sistemi che non parlassero tra loro era un vero problema. Nel 2015 la scelta decisiva, Team System, un partner che ci supporta non solo in tutte le funzioni aziendali ma anche nel nostro percorso di crescita come nessun'altra soluzione era riuscita a fare prima. Tra i prossimi progetti stiamo lavorando per dotare di monitor tutti i macchinari in produzione. Attraverso una postazione MES dedicata per ogni operatore a bordo macchina potremo garantire loro tutte le informazioni necessarie per svolgere al meglio il loro lavoro. Così facendo potremo inoltre eliminare il poco cartaceo ancora rimasto. Un altro obiettivo sarà implementare la soluzione Team System per la gestione della qualità al fine di rendere automatizzati anche i processi di disegno e collaudo. Ad oggi le nostre schede sono tabelle statiche che non possiamo analizzare come vorremmo ma questa esigenza si fa sempre più forte. La nostra intenzione è di essere sempre proiettati al futuro in un percorso di crescita assieme a Team System.